32 anni fa eravamo stresi demasiado giovani per andare a un concerto. Ma quel giorno fu molto complicato anche per gli adulti. Respinti al luscio. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Il mio compagno di banco ha adesso lo stereo e lo sparavolume importante per decini delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock, il passero, e in qualche modo ci sentiamo già più grandi dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i police suoneranno di fronte alla nostra scuola. i manifesti con la data sono comunque 3 aprile 1980. Questa storia per molti anni stabilisce che al chiuso qui non suona qui nessuno. Le viti di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco. E gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai dubulti provocati al palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto, a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa e poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne. La mattina dopo impariamo dal giornale radio. nazionale che lei gioia in India è stata saccheggiata da orde di autori duttori fuoribondi perché respingi all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta? Come sempre. 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 I polis hanno davvero suonato il mio quarto e noi scopriamo che la città è diversa da come l'avevamo immaginata fino a ieri Questa città è finemente bella 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 Grazie Grazie